bene ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale di saturn 5 per un nuovo video di approfondimento riflessioni e considerazione riguardo alla triste storia della scomparsa delle ragazze olandesi lisen e chris l'episodio che è accaduto nella primavera del 2014 proprio ieri ho pubblicato un video in cui spiego tutto ciò che è successo nei minimi particolari ovviamente il consiglio nel caso in cui non l'aveste ancora visto di vedervi prima il video precedente di cui vi metto il link in descrizione e solo successivamente guardare questo video dunque vediamo di fare ancora due ragionamenti approfonditi sul mistero che purtroppo avvolge questa storia incominciamo dalle fotografie che la polizia ha esaminato sulla fotocamera di una delle due ragazze mi pare che fosse lisen sono ben 500 foto le prime chiaramente scattate il primo di aprile proprio il giorno della partenza per questa escursione appunto il sentiero del pianista e come dicevamo già nel precedente video le prime foto ritraggono le ragazze in modo chiaramente spensierato gaio allegro con pose particolari poi selfie abbracciate eccetera per cui tutto normale poi da una certa foto in avanti la tipologia d'immagine cambia completamente intanto le ragazze non si riprendono più assieme non fanno più i selfie una riprende l'altra ma non in primo piano come tipicamente soprattutto le ragazze giovani fanno ma sempre con una certa distanza e soprattutto queste ragazze immortalate da sole tipicamente lisen che fotografava chris in atteggiamenti che gli investigatori stessi hanno definito un po' ambigui un po' strani ebbene proprio quegli atteggiamenti delle ragazze sarebbe stato interessantissimo interpretarli a patto però di sapere se quelle foto sono state scattate prima o dopo i tentativi di chiamata appunto con i cellulari al numero di emergenza il 112 voi direte ma basta confrontare gli orari purtroppo ragazzi questo non si è potuto fare perché si è scoperto che la fotocamera purtroppo non segnava l'ora corretta ma segnava un'ora completamente diversa di quella di panama al che gli investigatori hanno come prima cosa pensato benissimo le ragazze molto semplicemente si sono dimenticate di aggiornare l'orologio della loro fotocamera una volta arrivate a panama hanno pensato che la macchina indicasse l'ora olandese ma nemmeno quella indicava sono addirittura risaliti alle origini di quella fotocamera canon e hanno scoperto che è stata acquistata in uno store inglese ma nemmeno l'ora di londra era quella impostata per cui un altro mistero tra l'altro ci sta perfettamente che due ragazze di 20 anni partono per un viaggio e si dimenticano di cambiare l'ora sulla loro fotocamera ma un pochettino più strano il fatto che non la fotocamera non indicasse l'ora olandese cioè nel loro paese d'origine tanto è vero che le fotocamere appena acquistate ve lo posso dire per esperienza ne ho comprate ben più di una alla prima accensione chiedono innanzitutto la lingua e poi data ora che sono le prime operazioni da fare e solo in seguito si potrà procedere a impostare i vari menu fatto veramente stranissimo per cui non si è potuto capire se quelle strane foto ambigue che ritraevano le ragazze con degli atteggiamenti che tanti investigatori hanno definito un pochettino strani insomma no o comunque fuori luogo erano scattate prima o dopo le prime chiamate al 112 in ogni caso ancora più misteriose le 90 foto notturne scattate la notte dell'8 aprile messe in mezzo alle 500 al totale di 500 foto che hanno trovato su questa fotocamera come mai le ragazze non hanno scattato assolutamente neanche una fotografia in notturna per una settimana dopo appunto la scomparsa e come mai tutte queste 90 foto notturne tutte concentrate in un'unica notte come dicevo già nel precedente video non sono certo foto fatte intenzionalmente così finalizzate a se stesse per fare delle belle fotografie notturne ma erano foto fatte inquadrate male con oltretutto delle scene totalmente irrilevanti da un punto di vista di bellezza estetica e quindi sono state fatte per quale ragione ebbene questo non si è mai capito ed è anche molto difficile capirlo osservando alcune di queste foto tra l'altro parentesi non tutte le foto sono state rese pubbliche ci sono alcune foto e pare che ce ne sia una addirittura che ritrae chris con una ferita alla tempia che però sono rimaste in mano alla polizia dicevamo un motivo può essere semplicemente quello per fare luce visto che probabilmente non volevano usare la torcia del loro cellulare proprio per risparmiare batteria sapremo poi che per tanti giorni successivi hanno continuato diverse volte a fare dei tentativi purtroppo in vano di chiamata al 112 oppure servivano magari per spaventare qualcuno che le seguiva o per spaventare degli animali o per farsi vedere da eventuali elicotteri che di notte magari potevano girare per la zona da questo punto avrebbero dovuto sentire comunque prima il rumore appunto del motore dell'elicottero ma sinceramente non si riesce a capire c'è anche una foto strana con degli oggetti rossi che sembrano dei pezzi di stoffo dei segnali piantati sulla terra che potrebbero aver piazzato le ragazze per magari eventualmente riconoscere e segnare dove sono passate per un'eventuale strada di ritorno ma senza dubbio queste fotografie sono state veramente hanno rappresentato un mistero grandissimo come anche la chioma ai capelli di chris fotografati proprio in primo piano anche questo non si è mai capito per quale ragione questa il perché di questa foto e questo è un mistero mistero ancora più grande come accennavo anche nel precedente video il ritrovamento due mesi e mezzo dopo di ossa sparse più di 30 ossa sparse un po di chris un po di lisenne quelle di chris misteriosamente sbiancate come se avessero subito un trattamento di invecchiamento chimico artificiale che è una cosa che è tipica appunto della criminalità appunto dei cartelli messicani che tra l'altro da panama ci transitano parecchio ecco perché ho preso subito in considerazione l'ipotesi dei corrieri della droga o di qualche trafficante che si è accorto delle ragazze che hanno probabilmente visto qualcosa che non devono vedere e quindi per qualche ragione le hanno uccise facendo tutto quello che è stato presumibilmente fatto rimane pur certa una cosa e cioè il fatto che queste indagini sono state condotte nel peggiore dei modi perché c'è stato un inquinamento delle prove fin da subito allucinante voi pensate che addirittura ci sono mossi prima i locali prima della gente del posto a cercare appunto le ragazze trovando magari anche le ossa sono state trovate le ossa è stato trovato il misterioso zaino misteriosamente conservato in maniera quasi intatta dopo due mesi e mezzo da quella strana signora che passava in quel percorso lontanissimo tra l'altro dal punto di presunta sparizione delle ragazze in ottime condizioni insomma come se fosse stato conservato al chiuso e sicuramente non in una foresta per due mesi e mezzo questo un altro elemento veramente che denota insomma una situazione che si infittisce sempre di più dunque ripensando un po bene con calma a tutta la situazione e riflettendo un attimo su quale poteva essere stato il reale svolgimento dei fatti ragazzi mi sono soffermato su due aspetti in particolare e cioè su quella misteriosa signora che sostiene di aver ritrovato lo zaino delle ragazze e che ha portato alla polizia zaino conservato come dicevo appunto in modo misteriosamente integro pulito ed intatto zaino che conteneva la fotocamera che proprio grazie a quella poi gli investigatori sono riusciti a vedere tutte le 500 foto scattate ma non solo anche 83 dollari in contanti due reggiseni pare uno di appartenenza di chris in più una bottiglia d'acqua vuota e due occhiali da sole ebbene questa signora potrebbe aver trovato lo zaino in realtà non la data in cui ha sostenuto di trovarlo quindi dopo due mesi e mezzo verso metà giugno ma potrebbe averlo trovato prima pochi giorni dopo appunto il primo di aprile chissà in quale misteriosa circostanza potrebbe averlo preso portato a casa visto che conteneva insomma oggetti tutto sommato di valore a parte gli 83 euro ma anche una fotocamera due occhiali da sole non sapendo assolutamente ancora di tutto ciò che è accaduto poi una volta ha saltato fuori il caso una volta che ne parlavano radio giornali che tutti sapevano l'accaduto insomma potrebbe aver riflettuto dopo un po di tempo di farlo misteriosamente ricomparire proprio per sbarazzarsi di questo zaino con tutto il suo contenuto per evitare che venisse poi ritrovato in qualche modo a casa sua e quindi rischiare di essere coinvolta in questa bruttissima storia non si spiega però in questo caso il perché lei continuava a sottolineare il fatto che il giorno prima quello zaino là non c'era voglio dire se lei veramente l'avesse preso tenuto per due mesi e qualcosa a casa sua e poi riportato non aveva nessun interesse di dire che il giorno prima non c'era beh potrebbe essersi inventata questa storia per giustificare che lo zaino non era così diciamo fra virgolette invecchiato e sporco come avrebbe dovuto essere se realmente fosse stato due mesi e mezzo esposto appunto le intemperie della foresta pluviale un altro personaggio misterioso sul quale secondo me la polizia si è soffermata davvero troppo poco è appunto la guida locale guida che si era proposta di accompagnare le ragazze il primo di aprile a fare il sentiero del pianista non solo ma va anche proposto di ospitarle fare dormire in un lodge di sua proprietà in mezzo alla foresta una notte e quindi questa escursione avrebbe avuto durata di due giorni le ragazze sono rimaste un po' incerte poi all'ultimo hanno deciso di rifiutare e di andare da sole a questo punto hanno poi preso accordi sempre con la stessa guida per il giorno dopo per fare delle escursioni del giorno beh purtroppo gli investigatori a mio avviso non si sono soffermati a sufficienza su questa guida locale che poi ricordiamoci che è la stessa che il giorno dopo quindi il 2 di aprile parte da sola a fare le ricerche di queste due ragazze scomparse partite appena il giorno prima sta diverse ore nella foresta poi ricompare dicendo a tutti di non aver trovato assolutamente nulla e vi ricordate nel video precedente soltanto alle ore 5 di pomeriggio avverte le autorità in realtà anche la signora Miri ha strano che non abbia nemmeno a lei avvertito la polizia prima cioè già la mattina del 2 di aprile a questo punto voi capite bene che la cosa rimane abbastanza sospetta perché questa guida locale avrebbe nel caso in cui avesse fatto qualcosa di losco già il primo di aprile magari seguito senza farsi vedere da queste ragazze però potrebbe averle seguite poi in qualche modo portate con la forza nel lodge lei con il loro zaino avrebbe potuto tenerle lì per chissà quanto tempo facendo con loro chissà che cosa e poi soltanto quando il caso si è fatto veramente serio e quando probabilmente ha capito di essere esposto a un rischio superiore a quello che si immaginava all'inizio avesse poi magari deciso di farle a pezzi spargere le ossa e guarda caso sbiancare alcune non tutte no ossa in totale erano 33 ebbene avrebbe potuto farlo e poi insomma fare finta di niente anzi far finta poi di collaborare successivamente realmente alla ricerca appunto di lisen e chris più volte e questa guida proprio ha fatto ricerca ha finto forse di collaborare con la polizia però stranamente su questa guida locale non si è mai approfondito più di tanto le indagini molto strano il fatto anche che la stessa polizia soprattutto quella di panama abbia condotto così male queste ricerche e abbia addirittura consentito un inquinamento di prove mandando proprio i locali per primi a fare le ricerche vi ricordate che è venuto in mente l'ipotesi dei cartelli messicani ebbene ripensandoci bene ragazzi potrebbe anche essere che dal momento che in centro e sud america c'è tantissima corruzione appunto dei cartelli messicani nei confronti delle autorità di polizia poteva essere che magari questi agenti fossero stati corrotti dai cartelli messicani che responsabili o meno insomma del dell'eventuale scomparsa delle due ragazze abbiano fatto in modo che la polizia insomma indagasse ma indagasse in un modo tale che non si potesse effettivamente risalire alle vere origini e cause della scomparsa delle ragazze innanzitutto ma anche di questo misteriosissimo spargimento di ossa concludendo vediamo che purtroppo le ipotesi sono veramente parecchie considerata anche la zona come spesso succede nel sud america o nel centro america da un punto di vista politico sociale proprio non molto stabile abbiamo una polizia corrotta abbiamo lo strapotere come ben noto dei cartelli messicani abbiamo questa misteriosa signora che due mesi e mezzo consegna alla polizia lo zaino di queste ragazze che sembrava che per due mesi e mezzo fosse conservato in un luogo asciutto al chiuso e non certo esposto alle intemperie quotidiane delle foreste pluviali abbiamo la presenza di questa misteriosa guida che si propone quasi con eccessiva insistenza nell'accompagnare le ragazze il primo di aprile proposta che poi comunque le ragazze rifiutano poi guarda caso proprio primo di aprile queste ragazze misteriosamente scompaiono non risultano tracce evidente del loro passaggio sul sentiero del pianista poi guarda caso proprio il 2 di aprile e la guida è la prima ad accorgersi del fatto che le ragazze non erano praticamente tornate la sera prima sostenendo che avevano un appuntamento con lui il 2 quindi le ragazze a suo dire avevano rifiutato l'uno però accettato il 2 forse anche giorni successivi poi lui parte a fare da solo delle indagini delle ricerche prima di avvertire la polizia e soltanto alle 5 di pomeriggio avverte la polizia forse insieme alla signora miriam la quale anche lei chissà come mai non avverte la polizia poi c'è il mistero dello zaino il mistero di quelle 90 foto che sinceramente non riesco assolutamente a spiegarmi come mai tutte quelle foto notturne e come mai tutte e 90 soltanto la notte dell'8 di aprile ragazzi io veramente vi confesso che questo è un caso che mi ha indotto più volte a riflettere poi approfondire ancora anche per tutto quello che è possibile attraverso la rete le ricerche proprio in merito a questo caso ma ritengo appunto come dicevo le opzioni più probabili o un coinvolgimento della guida turistica che ripensandoci bene è abbastanza probabile oppure un coinvolgimento anche solo parziale di questa misteriosa signora che ha ritrovato questo zaino che ha poi riportato la polizia beh insomma potrebbe essere anche stata mandata da qualcuno per chissà quale ragione poi in più tutto complicato col fatto che siamo a panama ci sono le 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 piogge tutti i giorni che cancellano tracce ecco un'altra cosa che purtroppo non si è potuta verificare il tracce di passaggio dal momento che piove tutti i giorni le impronte delle scarpe delle ragazze non sono state viste da nessuna parte sul sentiero perché chiaramente piovendo tutti i giorni la pioggia forte cancella ogni tipo di traccia poi ci sono i cartelli messicani la polizia corrotta ragazzi un caso direi di cronaca nera davvero triste un po per tutto l'insieme di circostanze rinnovo l'invito come già nel precedente video di dirmi eventualmente qualora voi aveste delle informazioni in più di scrivermi nei commenti o anche soltanto un vostro parere riguardo a questa misteriosissima nonché terrificante vicenda che si è svolta appunto nelle foreste equatoriale del panama come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto se il video è stato di vostro interesse iscrivetevi al canale ragazzi e al prossimo video magari destinato di nuovo alla playlist dei gialli ciao ciao